Buongiorno a tutti i challenger, eccoci qua dopo le vacanze proprio da Parigi, come vedete. Vi volevo ringraziare per tutte le vostre visualizzazioni che avete fatto e vi chiediamo un ultimo sforzo. Siamo a 99 iscritti, 100 per arrivare alla cifra tonda. Allora, siamo stati sotto l'autore i file, come potete vedere, e abbiamo comprato una banconota da 0 euro. Cosa sono le banconote da 0 euro? Sono banconote uguali, identiche a quelle che sono in circolazione, solamente che hanno un valore nominale di 0 euro. Hanno la stessa consistenza, la stessa filigrana delle banconote normali e sono a scopo collezionistico. Noi abbiamo pagata 3 euro e il valore, questa qui proprio dedicata alla Torre Eiffel, può raggiungere anche i 10 euro. Allora, proviamo a vedere il lato secondario e come potete vedere, magicamente trovate anche la faccia della Mona Lisa con gli edifici principali delle città europee, il Colosseo, Parigi e la Sagrada Famiglia di Barcellona. Ma Parigi, come ben sapete, sarà al prossimo anno sede delle prossime Olimpiede. E' stata l'occasione per andare nel negozio che vende, diciamo, ufficiale delle Olimpiadi. Abbiamo trovato anche una moneta da 2 euro realizzata nel 2021 all'interno di una Coincard. Che cos'è la Coincard? E' un astuccio per i collezionisti dove queste monete non si trovano in circolazione, sono esclusive per i collezionisti. Ne sono state realizzate, di questa serie del 2021, 500.000, suddivise in 5 colori, un astuccio colorato. Questo col motto, mettre plus de sport dans nos vie, ovvero superare i nostri limiti attraverso le Olimpiede. Vedete il valore nominale e c'è il numero, questa qui è la 20.758, rispetto appunto a quelle che è complessivo. Allora, i costi. Noi cerchiamo sempre di dare dei costi ragionevoli. Noi l'abbiamo pagata 14 euro e quindi il valore in commercio si aggira su questa cifra qua. Comunque, insomma, essendo anche per collezionisti, si possono trovare anche a 20-25 euro. Niente, vi salutiamo, vi auguriamo una buona prosecuzione dopo le vacanze e mi raccomando, sosteneteci e iscrivetevi al nostro canale. Ciao ciao!